Davvero per qualcuno la democrazia è un concetto che funziona solo a patto che si canti col coro? Ma per chi osi fare con la propria testa, la risposta è la violenza. Lo dimostrano i soliti ignoti autori dell'ennesimo blitz ai danni della sede della Lega di Cremona. Avvenuto ieri all'alba, neanche un mese dopo l'ultimo caso che risale alla notte tra il primo e il 2 settembre, senza contare gli altri episodi, quali del giugno e del dicembre 2016, nonché del luglio 2015. Questa volta i criminali hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro una finestra della sede della Lega di Via Raldierizzo. A lanciare l'allarme hanno provveduto i residenti. Immediato l'intervento la polizia, che per il momento non ha potuto che prendere però atto dell'accaduto. I responsabili sono ancora liberi, liberi purtroppo anche di studiare il prossimo attentato, sperando che possano essere fermati prima.